Ciao a tutti amici di davidemaggio.it E adesso rispondo alle domande che mi ha girato Davide La prima è di Erika Dice quanto peso hanno le parole? Erika sono fondamentali le parole Io faccio il cantautore quindi Il messaggio è tutto È tanto importante quanto la minutia Se non fossi diventato famoso Cosa avresti fatto il resto della tua vita? Questa è una domanda da un milione di donne Molto probabilmente mi sarei buttato Nella gestione aziendale Mi piace molto il lavoro di squadra Penso sia molto producente Oramai e adesso e sempre Sono in qualche modo legate? Mi dice Michi Lo scoprirai a livello di significato Se potessi tornare indietro Cosa cambieresti della tua vita? Mi chiede Chiara Chiara non cambierai nulla Al momento non cambierai nulla Non ho né rimorsi né rimpianti Spero sia così per sempre Ma è molto difficile Speriamo di non sbagliare O sbagliare il meno possibile Cosa diresti a lei del passato? Io direi che sto facendo la cosa giusta Sta facendo veramente la cosa giusta Grazie mille Un saluto a tutti E mi chiede qui è una cosa giusta E mi chiede la cosa giusta E mi chiede la cosa giusta